Il giallo della scomparsa di Vittorin Bucci si infittisce e la paura della mamma, dei parenti, degli amici aumenta. Che fine ha fatto la 42enne di Larino scomparsa ormai da più di 20 giorni? Questi interrogativi sono balzati in cronaca nazionale, la vita è indiretta e chi l'ha visto si stanno occupando della vicenda. Nel tentativo, tramite anche la voce di parenti e conoscenti, di scoprire nuovi elementi. Le indagini dei carabinieri proseguono in maniera serrata e dopo l'analisi del cellulare si battono diverse piste, mentre si continua a cercare l'auto della donna, una panda rossa con targa EM981ZK. Il 17 dicembre Vicky si era allontanata alle 21.30 da Larino, aveva raggiunto poi termoli, qui come dichiarato dal compagno un 56enne della città adriatica, aveva cenato con lui una cesalite scoppiata in casa, avrebbe poi concluso la serata e il 56enne, che non ha voluto farsi riprendere in viso dalle telecamere, ha affermato di averla lasciata alle 6 del mattino. Dopo poche ore, il ritrovamento del cellulare. Su uno scoglio del porto di Termoli, una persona lo ha consegnato in una pescheria della zona, e il titolare, nel tentativo di scoprire di chi fosse per restituirlo, ha trovato 30 chiamate perse, tra cui molte della mamma. Roberta Bruzzone, chiamata ad analizzare il caso, non crede all'allontanamento volontario, ha definito il ritrovamento del telefonino un depistaggio grossolano, quel cellulare era sbloccato, quindi, secondo la criminologa, chiunque avrebbe potuto utilizzarlo per mandare dei messaggi. La mamma è disperata, ha raccontato in queste ore il momento in cui ha deciso di adottare Vicky, quando all'età di 5 anni quella bambina arrivò in Molise insieme a una missionaria di ritorno dal Chad. L'infanzia con la nuova famiglia, la laurea alla Luis di Roma, il lavoro che l'ha portata a Dublino, poi il matrimonio a Roma, finito male, quindi il ritorno a Larino. In un hotel in cui lavorava ha incontrato l'attuale compagno. Otto mesi fa ha iniziato la relazione con quest'uomo che, a detta della madre, di altre persone vicine alla 42enne, la picchiava. Poco tempo prima della scomparsa era tornata a casa con dei segni sul volto e sul corpo, poi le medicazioni in ospedale. Evidentemente le indagini dell'arma si stanno concentrando anche su questo, intanto i giorni passano e i timori sono sempre più forti. Grazie a tutti.